Guardi la buon voce che non si appletta sulle nostre libertà, non è possibile ancora oggi decidere sui nostri corpi. Non volete le quote rosa, per quale motivo? Perché crediamo che l'uguaglianza sia una cosa data, sia una questione di cultura e non sia una questione di un regolamento parlamentare. Mai più né leggi che debbano decidere sul nostro corpo, noi andiamo avanti per la nostra strada. E' un amore vaticano, la mia scelta sai dov'è? Io rispondo l'atto mazzone, decido io per me. Sappiamo che in Spagna c'è una legge che sta passando e che di fatto impedirà alle donne spagnole di abortire, ma questo non stacca da soltanto in Spagna. In Italia l'obiezione di coscienza è al 70% a livello nazionale, quindi questa è la negazione, la lesione di un diritto fondamentale della donna, quello di abortire, quella di decidere il proprio corpo e della propria vita. Siamo arrivati a questo livello di obiezioni di coscienza con una responsabilità molto grave di aborti per le minorenne e per le immigrate, perché non si vuole fare educazione sessuale nelle scuole. Padre c'è l'arco che passiamo noi, le spigone d'esta Roma bella, ma che c'è frega, ma che c'è importa, se tutto il mondo ce lo sposate, e noi è Dimo, e noi è Famo, noi sto sistema noi lo cambiamo. Il corpo è nostro, come le strade, croce, ci stiamo riprendendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie.